Il fotografo, il diavolo sta nei particolari. Il lavoretto che mi aveva trovato la mamma dopo la disavventura in fabbrica da egommisti un po' aggressivi fu come assistente fotografo a Pontedera. A dire il vero, più che prendere pratica con la macchina o e pellicola pulivo il bagno, davo lo straccio a terra e facevo la spesa per la moglie del proprietario. Ma tutto questo non mi pesava, io ero felice, ero felicissimo. Mi piacevano tutte quelle foto di matrimoni, di bambini appena nati e mi affascinava la magia della carta messa in bagno in un liquido che prendeva vita. Apparivano persone in vacanza, gatti, cani, cavalli. Devo ammettere, mi piacevano di più le ragazze in costume, in posa, in riva al mare. Ma si sa che il diavolo sta nei particolari. Il negozio del fotografo si trova di fronte all'ospedale e capitava spesso che venivamo chiamati a fotografare i feriti e qualche volta anche i morti che avevano avuto un incidente stradale. Il vero problema era che il mio capo non sopportava la vista del sangue, del buio e soprattutto quella dei difunti, quindi toccava a me scattare le foto. Mi preparava la macchina fotografica, mi accompagnava all'ospedale e poi rimaneva dietro la porta. Il primo caso che dovetti fotografare era un ragazzo più o meno della mia età, aveva 14-15 anni. Viveva in campagna con la sua famiglia ed era fatto un po' a modo suo. Era molto vivace e disubbediva spesso alla madre. Così ogni tanto a lei capitava di gridargli esasperata Sei cattivo, te mi farai morire di crepacuore Non mi ascolti, non vuoi andare a scuola Il ragazzo probabilmente ragionando in quel modo tutto suo su quello che gli diceva la mamma un giorno un giorno si ricordò che quando i tori diventavano pericolosi e cattivi gli tagliavano i testicoli e grazie a quel trattamento quelle grandi bestie diventavano buone, obbedienti e si lasciavano avvicinare. Così un giorno il ragazzo prese una forbice una forbice da pota e cercò di tagliarsi le pallette Ovviamente sentì un grandissimo dolore e mollò immediatamente le forbici e sanguinante cominciò a urlare arriva la sua mamma e poi arriva il suo babbo e insieme lo portarono in ospedale e dove ero io, lì, con la mia macchina fotografica per fotografarlo Madonnina Santa